Eh padre, che le messe sono noiose. Ma cosa dice il Signore è noioso? No, no, la messa no, i preti. Ah, che si convertano i preti. Ma è il Signore che sta lì, eh? Capito? Voi avete visto come i bambini si fanno il Signore della Croce? Non sei cosa fanno, non sei. Il Signore della Croce è un disegno. Fanno così, non sei. Non dice in alto i nostri telefonini per prendere la fotografia, eh? No, è cosa brutta, eh? Non solo dei fedeli, ma anche di alcuni preti e anche vescovi. Ma per favore. Grazie a tutti.